Grazie, Presidente. Un richiamo al regolamento. Richiamando gli articoli 22 e 141 delle nostre Rules of Procedure, desidero attirare l'attenzione sua e dei colleghi sul dovere del Presidente di tutelare il ruolo e le prerogative della nostra Assemblea in ogni aspetto della vita politica, a maggior ragione nei rapporti interistituzionali. Domani ci ritroveremo colleghi a dibattere per l'ennesima volta sulla dichiarazione dello scorso marzo tra OE e Turchia. Ne dibatteremo e basta perché alla nostra casa è stato negato non solo il diritto, ma anche il dovere di esprimere la propria volontà e responsabilità politica. Questa dichiarazione è tale solo nel nome, nei fatti sancisce impegni politici e di bilancio europei, precisi e già in corso di attuazione. Si tratta quindi a tutti gli effetti di un accordo internazionale e in quanto tale da sottoporre alla procedura di approvazione ex articolo 218 TFUE. Il nostro voto è quindi non solo obbligatorio, ma è anche vincolante e per questo propongo a tutti i colleghi, specialmente a lei Presidente, di sostenere la nostra richiesta di un ricorso per annullamento davanti alla Corte di Giustizia. In nome della democrazia difendiamo i diritti di 508 milioni di cittadini europei. Grazie. Grazie.